Una richiesta di indagine ispettiva e di essere sentiti per chiarire ed approfondire alcuni aspetti importanti già denunciati con precedenti note riguardanti l'ospedale di Milazzo. Così il segretario generale della UIL FPL di Messina, Livio Andronico, che ha indirizzato l'ennesima nota ai vertici dell'ASP di Messina, il sindacato per recuperare risorse umane, individuando la giusta ricollocazione in funzione delle specifiche caratteristiche e manzioni presso diversi reparti che necessitano e che in atto sono carenti, con diverse note inviate precedentemente tramite PEC, aveva denunciato al management dell'azienda sanitaria provinciale di Messina la gravissima problematica di utilizzo inappropriato del personale infermieristico. Per fare qualche esempio, ricollocazione del personale del comparto utilizzato in maniera inappropriata presso il presidio ospedaliero di Milazzo, carenza di personale medico e infermieristico presso l'unità operativa complessa di cardiologia, personale medico trasferito all'ospedale di Sant'Agata di Militello, criticità organizzative del personale area comparto del personale del pronto soccorso generale, unità operative con personale dell'area del comparto in sovranumero e di conseguenza sottratti ai reparti con carenza di personale. Poiché a tutt'oggi nessun riscontro è pervenuto alla willa, scritto il segretario Andronico, si reitera la richiesta di indagine ispettiva e si chiede nel contempo di essere sentiti per chiarire ed approfondire alcuni aspetti importanti già denunciati con precedenti note. Grazie per la visione!